In questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo, recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno. Venerdì prossimo 27 marzo alle ore 18 presiderò un momento di preghiera sul Sagrato della Basilica di San Pietro. Con la piazza vuota. Fin d'ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento con il quale al termino darò la benedizione, urbi e torbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti. Rimaniamo uniti. Rimaniamo uniti. Rimaniamo uniti. Grazie a tutti